eccoci qui di nuovo in onda cucina con stile per voi erina tirdea con mamma elena e siamo arrivati ai dolci i miei preferiti mamma elena cosa ci sta preparando di buono qui sembra che fatti in casa buonissima ma è tipo pasta frolla sono tipo pasta di spagna con zucchero e olio un po di farina dura pochissimo pochissimo qualche minuto giusto? 4-5 minuti in forno a 180 gradi e questi li riempiamo con un po di crema di marmellada con nocciole un po di cacao un po di canela e basta e basta e buon appetito